L'offerta era più che vantaggiosa, Polizia RC ha da sottoscrivere a prezzi stracciati. L'aggancio, come sempre via telefono, l'elochio forbito e a prova di dubbi, e le inevitabili vittime, ben 16 in tutta Italia, compresa la marca trevigiana. Ma qui i truffatori hanno trovato i carabinieri. Nell'area castellana le truffe sono un fenomeno quasi quotidiano e i militari dell'arma hanno una certa esperienza nel settore. L'indagine sul caso di un 34enne di Riese Piodecimo ha permesso di portare alla luce la mega truffa con 14 indagati. Questi, spacciandosi per dipendenti di una compagnia assicurativa, contattavano le vittime del raggiro proponendo la sottoscrizione di polizze con versamento sul conto corrente online di somme tra i 400 e i 600 euro a seconda del modello dell'autovettura. Incassato il versamento, inviavano una falsa documentazione attestante la copertura assicurativa che le vittime ignare custodivano nelle loro autovetture, pronte per essere esibite in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Quando il 34enne di Riese ha innocentemente mostrato il documento durante un controllo ordinario, è emersa la storia. Le indagini hanno portato a un 37enne di Napoli e da qui si è arrivate ad altre 15 truffe messe in atto dal dicembre 2021 al febbraio 2023 con lo stesso sistema in varie parti del territorio nazionale, coinvolti altri 13 soggetti che nei mesi si erano intascati in tutto oltre 10.000 euro.